Oggi vi parlerò dei cerchini al grano. I cerchini al grano come si formano? Semplicemente da una navicella spaziale, praticamente un disco volante, fuoriesce un cilindro che è una specie di navicella a forma appunto di cilindro. Da questa navicella escono le sfere di luce. Le sfere di luce creano il cerchino al grano. Più ci sono sfere che fuoriescono e più il cerchino al grano è grande e complesso.